Non spaventatevi, sono sempre io, mi sono fatto la barba ma sono sempre io, lo so sono diverso, sono tornato a calcio dopo un paio di mesi dal mio infortunio e le prime due cose che mi han detto nell'anno nuovo vedendomi senza barba sono quanto sei brutto senza barba e sei ingrassato, grazie ragazzi, vi voglio bene anch'io, mi siete mancati anche voi e quindi queste due cose me le hanno già detto e non ditemi neanche voi, spero che la barba ricresca il prima possibile, però mi sento anche un po' a disagio, mi sono sbagliato a farmi la barba, è venuto a fare una roba del genere e quindi niente, però parliamo comunque di Juventus che ci sono alcune cosine interessanti da dire, prima di tutto però vi voglio dire che ieri ho scritto e ho fatto uscire un articolo su Danilo, in tanti l'avete già letto sicuramente, lo trovate sul numero 10, il link per scaricare l'applicazione qui sotto, ok, in descrizione, andatevi a scaricare l'app perché oltre appunto a questi articoli non uscirà anche un altro in questo mese, usciranno un video post partita, quello di Monza, Juventus, Juventus Monza di fine gennaio e anche un altro video in più, quindi non perdetevi anche questi contenuti esclusivi che vado a pubblicare proprio sul numero 10 come l'articolo su il rinnovo di contratto di Danilo. Prima di andare avanti sul discorso ci tenevo a fare una piccola digressione proprio su Danilo perché dato che ci stiamo avvicinando a Napoli-Juventus e dato che Danilo oggi è un vero e proprio perno della Juventus, vi ricordate al primo anno di Danilo alla Juve quando la Juve era allenata da Maurizio Sarri la prima partita post lockdown, la seconda in realtà, perché la prima fu la semifinale di ritorno in Coppa Italia contro il Milan, partita bruttissima, bruttissima, ma tutte le partite erano state brutte dopo quella pausa mi ricordo che anche l'altra partita tra Napoli e Inter era stata atroce, tremenda non si faceva praticamente mai gol, credo che sia stato fatto gol solo da Eriksen da calcio d'angolo una roba del genere se ricordo bene, però in finale di Coppa Italia contro il Napoli Danilo sbaglia il rigore decisivo perché la Juventus comunque ne segna tanti poi arriva Danilo e lo tira altissimo, era un Danilo diverso, stavamo parlando di un Danilo che non aveva questa leadership o comunque non era stato incaricato a livello pubblico in tal maniera e io rimanevo anche stupito di vedere Danilo presentarsi sul dischetto proprio perché era un giocatore, una seconda linea tra virgolette il titolare in quel momento per la Juve era quadrado, basso a destra nel 4-3-3 o nel 4-4-2 di Sarri quindi vedere Danilo che andava a calciare il rigore era abbastanza particolare lo spara alto, il Napoli vince la Coppa e vince la Coppa grazie al rigore di Arek Milik ora, pensarci oggi è una follia, sembra passato un secolo e mezzo sono passati due anni e mezzo, soltanto due anni e mezzo e oggi Danilo è un leader della Juventus, è il capitano della Juventus è vero che è Bonucci il capitano, ma Bonucci lo stiamo vedendo alle prese con dei problemi fisici e sta continuando a essere un giocatore sulla via dell'ex calciatore, sul tramonto e quindi Danilo lo sento come vero e proprio capitano della Juventus è Arek Milik il trascinatore, tra l'altro non a caso sugli ultimi due gol segnati dalla Juve due gol che valgan sei punti, che sono l'1-0 Cremona e l'1-0 contro l'Udinese prepararci a questa sfida col Napoli, con questa piccola coincidenza mi fa sorridere, soprattutto se pensiamo che Danilo il primo gol della sua avventura bianconero l'ha segnato proprio contro il Napoli una delle partite più belle che abbiamo visto allo stadio Juventus-Napoli 4-3 con Martuscello in panchina perché Sarri aveva la polmonite cosa succede? Dopo 15 minuti si fa male di Sciglio esce di Sciglio, entra Danilo dopo 28 secondi era il primo pallone toccato con la maglia della Juve in contropiede Danilo fa gol esordio con gol dopo 28 secondi e un pallone toccato in contropiede e ancora una volta, nella settimana che ci prepara che ci porta la sfida col Napoli sono cose interessanti ultima su Danilo è l'unico difensore della Juventus sempre presente nelle ultime otto partite e sono le otto partite in cui non abbiamo subito gol quindi 90 per 8, 720 i minuti giocati più i recuperi delle partite e Danilo è l'unico ha sempre cambiato partner i due partner, Rugani, Alessandro, Bonucci, Bremer, Gatti gli ha sempre girati ma lui c'è sempre stato, è l'unico è il giocatore più utilizzato da Allegri in questa stagione con 1880 minuti disputati e su 23 gare stagionali della Juventus lui è stato presente in 22 l'unica che è saltato è stata la squalifica in Champions League contro il PSG al ritorno questi sono alcuni dei numeri alcuni degli aneddoti che trovate all'interno dell'articolo vi consiglio di andarvelo a leggere però erano tutte piccole cose che mi piaceva condividere insieme a voi anche in video c'è una novità c'è una novità e cioè che Vlaovic e Pogba hanno fatto delle esercitazioni hanno svolto delle esercitazioni individuali con il pallone i test sono stati positivi e quindi si pensa che già in settimana possano ricominciare ad aggregarsi alla squadra che non significa che sarà a disposizione per Napoli ovviamente non significa questo a meno che non ci sia un recupero lampo e miracoloso ma credo che la Juventus non voglia forzare con nessuno dei due però è una piccola buona notizia perché significa che i giocatori iniziano a diventare dei veri e propri candidati per essere convocati nelle prossime partite ce ne sarà bisogno perché abbiamo una partita dopo l'altra e quindi bisogna assolutamente rimanere qua e concentrati ieri mi sono reso conto che non ho finito un ragionamento nel video che vi ho portato ho iniziato un discorso poi ne ho messo in parallelo un altro sono andato dritto quindi non è stato terminato dicevo alcuni sono ancora insoddisfatti sono ancora qui che mi parlano del giocar male e io capisco perché se una cosa non ti piace o la partita non ti dà quella serenità non ti dà quella garanzia non ti dà quell'emozione per la quale hai iniziato a seguire il calcio io capisco però in questo momento chi mi parla di Allegri che deve essere esonerato secondo me deve un po' metterla via questa cosa perché ribadisco anch'io anch'io avrei cambiato allenatore a un certo punto della stagione dove non vedevo veramente più gli sbocchi e il discorso che facevo anche ieri ma abbiamo già parlato di questa cosa tante volte non pensavo che ci si potesse riprendere in questo modo e a Napoli venerdì abbiamo la prova del 9 ma questo è il titolo, è il video di ieri quindi il punto è che ragazzi pensare oggi di allontanare Allegri in corso d'opera è un discorso che è già stato fatto ma probabilmente il messaggio non è passato alcuni non l'hanno sentito o magari alcuni non interessa proprio ma con il momento che sta vivendo la Juventus extra campo è una fortuna è una fortuna che non sia stato cambiato anche l'allenatore o che l'allenatore sia rimasto che non sia stato esonerato che non si sia dimesso è una fortuna oggi come oggi è Allegri piace, non piace vince, perde come tutti come tutti Allegri è una figura divisiva divide divide tantissimo una delle figure più divisive che io abbia mai visto parlando di calcio sul web forse la figura divisiva per eccellenza ma in questo momento la Juventus deve andare avanti con Allegri perché non può permettersi di cambiare anche la parte della guida tecnica in questo momento e poi giugno ci si pensa magari viene confermato Allegri perché vince lo scudetto magari vince lo scudetto e si rimette magari non vince lo scudetto e rimane magari non vince lo scudetto e viene cambiato ci sono tante possibilità oggi non lo possiamo sapere ma oggi parlare di voglio togliere Allegri voglio cambiare Allegri Allegri non mi piace finché c'è Allegri non si vince con Allegri non si va bene ragazzi oggi non ha senso oggi non ha senso per via di quello che sta succedendo la Juve Elkan è stato chiaro categorico preciso Allegri è la nostra area sport maggiori poteri ed Allegri a Cherubini che gestiscono l'area sportiva da qui a giugno da qui a giugno poi a giugno si vedrà quindi io capisco che tanti possano non essere conquistati da queste partite della Juve e ci mancherebbe altro perché anche le due partite che abbiamo fatto post ripresa sono state di sofferenza sono state una sofferenza unica e probabilmente abbiamo anche inzuccato l'albero della fortuna perché gli episodi da un po' di tempo a questa parte ci stanno andando bene quando magari nella prima parte delle stagioni gli episodi non ci andavano bene qualcosa è cambiato ne parlavo anche ieri ne ho parlato anche durante la pausa mondiale la più grande differenza tattica è appunto il 3-5-2 secondo me l'ordine che ti ha garantito il 3-5-2 perché si è andato un po' a toglierti quell'idea di 4 4-2 storto che aveva accompagnato tutta la stagione scorsa che non ti dava niente non ti dava niente o quasi niente è per quello che anche l'altro giorno quando ho visto McKennie largo a destra e si è formato una sorta di 3-5-2 storto un po' mi ha dato fastidio perché non vorrei che si tornassero a fare dei passi indietro anche dal punto di vista della lettura della partita proprio della gestione della partita perché con Quadrado e Kostic almeno a tutte e due le parti riesce a spingere riesce a avere corsa sugli esterni qualità anche con Sule come McKennie è ovvio che sia un po' più contenitivo e quindi non vorrei mai che si tornasse a fare dei passi indietro anche da quel punto di vista e dall'ordine dal modo di giocare speculare libero con il 3-5-2 quindi spero che non si stiano facendo dei passi indietro però il messaggio che voglio passarvi oggi è proprio questo è inutile è davvero completamente inutile perdere tempo a dire io cambierei Allegri d'accordo ci sta è un'opinione ma a gennaio a metà gennaio non dopo le 8 vittorie di fila non ragionate sull'ambito sportivo non ragionate sul merito sportivo perché essere usciti dalla Champions 6 Gironi per me avrà sempre un peso troppo grande rispetto a quello che si potrà fare in campionato in Europa League o in Coppa Italia che si è uscito dalla Champions 6 Gironi facendo 3 punti vincendo una partita su 6 quello peserà non credo che il merito sportivo di Allegri sia quello di aver vinto le 8 partite di fila in Serie A perché le 9 precedenti si sono andate male quindi sono due cose scollegate io vi sto parlando proprio dal punto di vista di gestione della Juventus oggi la Juventus ha altri problemi e non può permettersi di sprecare energie nel cercare di capire come migliorare l'area sportiva perché l'area sportiva oggi c'è ed è gestita da questi due individui Cherubini e Allegri quanto durerà due anni quattro anni sei mesi un mese tre mesi cinque mesi non lo so io vi dico arriviamo a giugno vediamo cosa abbiamo fatto in campionato e cerchiamo di capire in stagione non in campionato e cerchiamo di tirare le somme definitive sperando ovviamente che tutte le cose vadano bene lato extracampo lato normativo quindi questo è un po' il messaggio che volevo passarvi ragazzi niente andatevi a leggere l'articolo su Danilo fatemi sapere se secondo voi Pogba e Vlaovic potranno essere a disposizione già per le prossime gare post Napoli o se secondo voi addirittura ci sarà questo miracolo e fatemi sapere anche cosa ne pensate dal punto di vista dell'allenatore di quello che vi ho detto adesso che vi ho detto